merenda con yo-yo tra poco, su rayo-yo, è in arrivo la risata della vostra amica peppa guardate un po' chi c'è nell'isolotto corallino la loro affiatatissima ciurma è sempre pronta per avventure incredibili in compagnia della loro fedele nave Bucky esplorano i mari per cercare tesori e combattere il temibile capitano Uncino su rayo-yo vi aspettano tutti i giorni alle 20.30 Jake e i pirati dell'isola che non c'è yo-ho, andiamo!